Dopo la pandemia la generosità, l'altruismo dei lecchiesi non si ferma, anzi aumenta, aumentano del 6% le donazioni nella provincia di Lecco. Come mai questo dato? Tradizionalmente il territorio lecchiese è un territorio generoso per quanto riguarda la donazione di sangue. Siccome noi abbiamo 15.000 donatori, ovviamente abbiamo un potenziale enorme, quindi nonostante la pandemia, nonostante il rallentamento, nel 2021 siamo riusciti a incrementare le donazioni rispetto all'anno precedente. Un altro dato interessante è l'aumento delle giovani donatrici. Fisiologicamente è un pochino più difficile per le donne, tant'è che le donne possono donare solamente due volte all'anno, mentre gli uomini fino a quattro, quindi alla luce di questo acquista ancora più valore questo dato. Lecco è inoltre tra le province che donano di più in tutta Italia, c'è una densità di donatori veramente alta. Sì, esatto. Noi abbiamo raffrontato i dati del nostro territorio con i dati di Avis nazionale o di Avis regionale Lombardia, abbiamo rilevato una donazione più che doppia rispetto alla regione. Quindi siamo a circa sugli 80, le 80 donazioni per 1.000 abitanti. Teniamo conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che un rapporto ottimale dovrebbe essere di 40, quindi siamo più che al doppio. E all'interno della provincia di Lecco c'è un paese che merita attenzione particolare, Bellano ha veramente tanti donatori. Bellano raccoglie un territorio abbastanza vasto e soprattutto raccoglie i donatori del gruppo di Premana, che è un caso particolare. Teniamo conto che su circa 2.200 abitanti a Premana ci sono 400 donatori.